o comunque io una pettinatura tipo cristiano ronaldo me la sarei fatta non capisco perché ti devi sempre opporre secondo me avrebbe funzionato soprattutto per le mie fans vabbè comunque l'inquadratura come apporto a così cari amici di total photoshop ma soprattutto cari fans delle immagini movimento oggi sono qui per presentarvi la mia prima fatica letteraria fatica letteraria un parolone in realtà si tratta di un ebook di una trentina di pagine che contiene tutta una serie di indicazioni molto interessanti per chi vuole realizzare i propri video quelli fatti in casa curarli al meglio e magari rendere piacevole piacevoli le proprie immagini i propri film anche se si trattano semplicemente di fin delle vacanze dei propri ricordi si parla infatti di illuminazione si parla di linguaggio cinematografico inquadrature si parla di raccordi e di ritmo delle immagini in realtà poi per ognuno di questi argomenti andrebbe fatto un trattato completo che magari però può interessare di più chi vuole intraprendere una carriera cinematografica da regista e quindi seguire le orme di spilberg questo prodotto è più indicato magari agli amatori agli appassionati di video e forse anche a chi vuole affacciarsi sul mondo della comunicazione video e capire come è strutturato un film come si fa e di che cosa è composto ma per fare questo bisogna partire dall abc e ho cercato di spiegarlo in modo semplice e discorsivo proprio in questi book però io adesso vado a pettinarmi come dico io e non se ne parla più a pettinarmi come si parla più